Cari amiche e cari amici, questo è l'estratto di un articolo di Francesco Lamedola che potrete trovare in versione integrale sul sito Nuova Italia Accademia Adriatica di Filosofia, titolo a proposito dell'ossessione moderna per la sicurezza. Il signor X sta camminando tranquillamente per una via della sua città, allorché, nello scendere dal marciapiedi, posa male il piede a terra, si sloga la caviglia, cade escoriandosi anche una spalla. Ricoverato in ospedale, gli ingessano il piede e ciò lo obbliga a un periodo di convalescenza di 40 giorni. Molto prima di riacquistare l'uso dell'arto, il signor X si consulta con il suo avvocato, poi sporge denuncia contro il comune, accusandolo di non aver curato la manutenzione stradale e di essere scivolato a causa di una irregolarità del bordo del marciapiede. Vuole un risarcimento, alcune migliaia di euro. La signora Y va a fare la spesa in bicicletta tutti i giorni, pur essendo piuttosto anziana, e un giorno la ruota anteriore della sua bici va a incastrarsi nella sede del binario della tranvia urbana e cade rovinosamente. Per miracolo non viene investita dalle automobili che transitano incessantemente lungo il viale nell'intenso traffico dell'ora di punta. Riporta parecchie contusioni e la frattura di due costole. Sul consiglio di un'amica decide di sporgere querela contro l'amministrazione comunale, per buona misura, contro la società di trasporti che ha fatto attrezzare le sedi stradale in modo da farvi transitare i tram elettrici. Poi c'è il caso, se possibile ancora più drammatico, della bambina Cappa, annegata in due metri d'acqua nella piscina dell'albergo presso il quale trascorreva le vacanze insieme ai genitori. Stranissima fatalità. Ha voluto che il piede le restasse incastrato nel bocchettone dello scarico e che il pronto intervento del bagnino per liberarla da quella imprevista e pericolosa situazione non sia stato sufficiente a salvare la vita. Quando l'hanno portata sul bordo della piscina, la ragazzina aveva già smesso di respirare. Anche in questo caso, pronta azione legale della sua famiglia contro la proprietà dell'albergo perché un simile incidente non doveva accadere. Se è accaduto vuol dire che la piscina non era norma e quella tragedia si sarebbe potuta evitare. Potremmo proseguire a lungo con questo tipo di situazioni, dai casi nei quali la responsabilità degli incidenti è decisamente dubbia, come quello della bambina che è morta perché, mentre si trovava all'interno di una chiesa con i suoi compagni di catechismo, si è aggrappata all'acqua santiera e la pesante vasca di marmo le è rovinata addosso. Si arriva fino a quelli nei quali essa è quantomeno cervellotica, per non dire pretestuosa, come quando un turista si è visto asportare la mano da un orso al quale offriva un panino all'interno di un parco nazionale. O la visitatrice di un giardino zoologico che ha subito la stessa sorte dopo aver introdotto la mano con una banana oltre le sbarre della gabbia di un panda, sempre a dispetto dei cartelli che invitano le persone a non avvicinarsi agli animali selvatici e non tentare di familiare con essi, ma soprattutto a dispetto del più elementare buonsenso e della più ovvia prudenza. E c'è perfino chi vuol far causa al comune o al cai, alla direzione del parco naturale, si è avuto un incidente durante un'arrampicata in montagna. C'è stata una slavina, una frana di ghiaccio e pietre si è abbattuta giù da una parete. Beh, la colpa non è stata del caso, della leggerezza, dell'imprudenza dei locciatori, no, sempre e solo di qualcun altro. E non potendo trascinare in tribunale le condizioni meteorologiche e neppure il Dio in persona, non resta altro da fare che intentare causa alle pubbliche autorità. Stessa cosa se dei ragazzi incoscienti o degli speleologi improvvisati si infilano in una grotta chiusa al pubblico, ma il cui accesso non è sbarrato e magari proprio vicino alla vigilia di un violento nubifraggio che in poche ore l'ha riempita d'acqua. La responsabilità di quello che è accaduto a quei ragazzi non è loro, per carità, ma di chi non ha segnalato il pericolo e non ha provveduto a far sì che l'ingresso della grotta fosse debitamente sigillato. Inutile dire che la responsabilità delle pubbliche autorità esiste solo in un senso e non in entrambi, vale a dire che prevede solo diritti e nessun dovere per il singolo cittadino. Da un lato è solo doveri e nessun diritto per le pubbliche autorità dall'altro. Se per esempio un maldestro alpinista viene a trovarsi in difficoltà, chiede aiuto col telefonino alle guardie forestali e al soccorso alpino, poi quando arriva l'elicottero ha cambiato idea e pensa di potercela fare da solo e rifiuta di essere soccorso, ciò rientra nei suoi diritti. E sia ben chiaro che il conto di 2-3 mila euro per l'uscita a vuoto dell'elicottero con tutto il personale non lo pagherà di certo. Perfino se quell'elicottero si è mobilitato per lui due o tre volte nell'arco di poche ore, perché le richieste di soccorso erano state più di una e sempre dalla stessa persona. Ne si creda che stiamo lavorando di fantasia, anche questo fatto, come gli altri, è realmente accaduto. Da stampa ne ha parlato, come si è andata a finire, non si sa. Perché? Perché poi è sceso il silenzio ed è molto probabile che quel conto alla fine lo paghiamo noi, sotto forma di tasse, e non il tizio che dovrebbe pagarlo e che oltretutto, essendo un cittadino straniero, spagnolo in questo caso, se ne è tornato a casa sua, da dove si guarda bene dallo scucire un solo centesimo per l'intervento che lui stesso, sua madre o comunque qualcuno del suo gruppo avevano richiesto con accenti angosciati. Il discorso si fa ancora più complicato quando si parla di sport. Un numero in costante crescita di persone è sempre più smanioso di mettere a ripentaglio la propria vita mediante la pratica dei cosiddetti sport estremi, nei quali ciò che conta non è la sana e normale competizione per ottenere un risultato significativo dal punto di vista atletico, ma la ricerca esasperata di sensazioni forti che facciano sgorgare l'adrenalina a mille, magari con lo scopo di immortalare se stessi col telefonino cellulare e di postare la propria immagine eroica sui social per sbalordire il prossimo con la prova inoppugnabile del proprio ardimento e del proprio sprezzo del pericolo. Tuttavia, nello stesso tempo, si assiste sempre più spesso allo spettacolo di persone che intentano cause legali contro le società sportive presso le quali si allenano, loro o i loro figlioli, e addirittura di genitori che pretendono di trascinare in tribunale la presidenza della scuola frequentata dal loro pargoletto esigendo un risarcimento salatissimo se il poverino durante l'ora di educazione fisica si è contuso un ginocchio o si è sbucciato la pelle del dito mignolo, magari mentre giocava con gli attrezzi della palestra, all'insaputa dell'insegnante e sottraendosi intenzionalmente alla sua sorveglianza. Ben diverso era l'atteggiamento degli antichi nei confronti dello sport e, in genere, del pericolo fisico e degli incidenti che possono capitare a chiunque esce di casa, cammina, corre, cavalca, nuota o semplicemente si reca al lavoro per guadagnarsi il pane quotidiano. Uno degli incontri di Pugilato più famosi nella letteratura greca è quello fra Amico e l'eroe Polluce. Ne parla Apollonio Rodio nel poema Le Argonautiche, ma a noi piace rievocarlo attraverso una pagina dello scrittore e poeta britannico di origine tedesco-irlandesi Robert Graves, grande filologo e difensore della bellezza classica contro la bruttezza dell'arte moderna piegata ad interessi economici. Scrive Graves In seguito, Largo toccò l'isola dove regnava l'arrogante re Amico, un figlio di Posidone. Cotesto Amico si vantava ad essere un gran pugile e usava sfidare gli stranieri che invariabilmente venivano sconfitti, ma si rifiutavano di battersi. Amico, senza troppi complimenti, li gettava in mare dall'alto di una roccia. Amico andò incontro agli Argonauti. Negò loro il cibo e acqua se non si fossero misurati con lui. Polluce, che aveva vinto le prove di pugilato ai giochi olimpici, subito si fece avanti. Infilò i guanti che Amico gli offriva. Amico e Polluce iniziarono il pugilato in una valletta fiorita, non lontano dalla spiaggia. I guanti di Amico erano irti di punte di bronzo, e i muscoli delle sue braccia pelose parevano scogli coperti di alghe. Egli era di gran lunga il più pesante e il più giovane. Ma Polluce, combattendo con cautela, all'inizio e schivando le cariche brutali dell'avversario, ben presto si rese conto dei punti deboli della sua difesa ed uscì a fargli sputare sangue dalla bocca tumefatta. Dopo una prolungata serie di assalti durante i quali nessuno dei due pugili diede segno di stanchezza, Polluce infranzi la guardia di Amico. Gli appiattì il naso con un potente sinistro e riuscì a piazzare un paio di uncini alla mascella. Reso furioso dal dolore, Amico agguantò il pugno sinistro di Polluce, lo tenne fermo mentre vibrava un destro, ma Polluce si scostò bruscamente, evitò il colpo e rispose con un destro all'orecchio, seguito da un montante così irresistibile che fracassò la tempia di Amico e lo uccise all'istante. Il lettore moderno potrebbe pensare che la tragica conclusione dell'incontro tipo gilato tra Amico e Polluce sia un evento eccezionale, dovuto alla particolare drammaticità del contesto, quello di un re inospitale brutale che, similmente a Polifemo, ha attirato su di sé il castigo divino, ma non è affatto così. L'eventualità che simili incontri sportivi si concludessero con la morte di uno degli antagonisti era tutt'altro che remota, specie se l'incontro avveniva in un clima di competizione particolarmente acceso. Basta leggere nell'Iliade la narrazione dell'incontro di Pugilato che si svolge in occasione dei funerali di Patrocolo offerti da Achille, oppure nell'Eneide quello che ha luogo durante le cerimone funebri in memoria di Anchise, volute da Enea, per constatare come solo per miracolo il furore del combattimento non divenisse causa di ulteriori lutti. Il cristianesimo ha poi ingentilito i costumi, ha fatto abolire ad esempio i crudeli giochi del circo, dei quali si dice che in una volta sola al tempo dell'imperatore Claudio venissero mandati al macello 20.000 gladiatori. Ma se il senso e quindi il valore della vita era subordinato nel mondo antico all'affermazione dell'arete del guerriero, cioè la dimostrazione della sua eccellenza in guerra, mentre nella civiltà cristiana discendeva dall'adeguarsi alla volontà divina, nella modernità le cose sono al tempo stesso più semplici e più complesse. Più semplici perché la principale ideologia moderna, il liberalismo, postulando la completa libertà dell'uomo e recidendo di fatto il suo legame con la dimensione soprannaturale, ossia naturalizzandola radicalmente, rende di necessità la vita umana più fragile ed esposta anche e soprattutto ad autodistruggersi con l'aborto, l'epanasia, la promiscuità sessuale e la libertà di derogarsi. Più complesse perché l'orrore della morte, in un orizzonte del tutto privo di trascendenza, genera una reazione isterica di rifiuto. Ed ecco esasperarsi la rivendicazione del diritto alla vita, non solo, ma anche alla sicurezza, sempre e comunque. Allora bisogna mettere ogni cosa in sicurezza, perfino le montagne. Il paradosso è che, frattanto, le cose più intime, dai risparmi all'informazione, alla stessa libertà di pensiero, gli vengono sottratte in silenzio. Bene, cari amiche e cari amici, pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo d'oro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.